T'ho coperto tutto, quanto mi costa? 4000 euro, vabbè però 4000 euro si può fare Non è che mi ha chiesto chissà quale cifra da farmi strappare i capelli Certo, i soldi sono pochi, però stanno arrivando persone, io questo voglio Qua c'è un po' di spazzatura che potrebbe rompermi le palle Tutto per colpa di quella... eh, tutto per colpa di questo coso qui Mi devo ricordare prima di fare... qua dobbiamo far... dobbiamo distruggerlo eh Mi spiace un po' distruggerlo, però se non lo distruggo mi tengo sempre quel pezzo di strada lì Che mi va a creare una congestione interna alla strada, va bene Andiamo sempre a velocità 3 però, ecco perché ci mette tantissimo tempo Vai, corri, del ritmo voglio io Allora, c'è una richiesta di arancione che io vado subito a... a cercare di coprire questa richiesta Qui come vedete è un attimo Fammi un po' capire, io qua posso togliere questo Sì, posso toglierlo perché comunque non serve più, non serve Visto che si è creato un sistema... sì, si è unito in pratica Polizia, polizia e vigili del fuoco che già vedo un... vedo un coso Allora, vigili del fuoco sono questi, sì, fire department Se io li metto dove li posso mettere... eh... Devo metterli in un punto tale che mi coprono qua Semplici, sono tutti coperti così, guarda Mi coprono veramente tanto, mi coprono Forse un po' qui non coprano Però qui volendo poi possiamo farci una seconda stazione Subito anche ci mettiamo vicino, vicino Questo Non è male, non è male avere dei servizi che danno un attimo la sicurezza alle persone che vivono in questa città Richiesta, polizia station, ok? Richiesta ancora elevata di verde Richiesta elevata di verde ma abbiamo anche pochi soldi Abbiamo anche pochi soldi Eh... c'ho un po' di... allora, questo livello si sta livellando, ok, perfetto Facciamo una cosa Cambiamo anche questa strada Visto che siamo già qui Questa cos'è? Questa è il light way, no? Mi basta la large road Ok, miglioramela Miglioriamola subito, miglioriamola Tiriamo una stradina qui che mi consente di creare una zona verde Una nuova zona verde Perché comunque è tutto pieno, eh Al momento c'è richiesta di zona verde e zona blu La zona blu, eh... la potrei pur mettere un altro pezzettino Guarda, qua ti riempio di blu Te li metto altri due di questi, va? Te ne metto uno anche qui, non si sa mai quello che può uscire Eh... peraltro qui c'è un piccolo errore, guardate C'è un piccolo errore sul... Eh... sì, sì, zona abbandonata, non ti preoccupare C'è un piccolo errore qui sulle... sulle zone verdi Purtroppo non mi aveva preso il pezzettino Il quarto... la quarta lignetta che spunta quando voi allargate la strada Non l'aveva preso Ok, set police Ok, power usage No, smoke detector Neanche Stai calmo, stai calmo State tutti calmi un po' Allora, c'è una richiesta di verde Allora, prima di cosa risolviamo questa richiesta di verde Perché il verde è ciò che ci fa veramente guadagnare Mmm... però se lo metto anche qui Fammi un po' vedere Vabbè, lo metto qui, guarda Non c'ho soldi, non c'ho È una cosa incredibile Mi servono 9.000 euro e non ce li ho Qua fammi vedere Sì, dai, questa è Ci sta Fammi vedere se me la fa tirare un po' di più Vabbè, tiriamola fin qua Non se ne parla più, eh Sennò qui ci mettiamo tre quarti d'ora Ok, riempiamo di verde Perché il verde comunque ci... ci dà delle zone E questo qui, questa parte qui centrale Io non la voglio toccare Bene sì, non la tocco, non la toccherò Remember, new service Sì, sì, già l'ho messo, non vi preoccupate Non la voglio toccare per il momento Perché ho intenzione di fare anche delle strade sopra, sottolevate Possiamo fare delle belle cosine Non dico mica di no In questo momento stiamo salendo a 111 Ci può stare Adesso sbloccheremo sicuramente qualcosa di nuovo 1.400 High school Va bene, va bene High school Però Qua c'è un piccolo problema di polizia Com'è che la polizia non funziona? No, questo è garbage No, questo è polizia Guarda Ok, 1.400 Perfetto La polizia dove l'ho messa? Non l'ho messa? Sapete che non l'ho messa la polizia? Com'è possibile che non l'ho messa la polizia? Allora, fammi vedere Pompieri Medical Clinic Perché ho messo due Medical Clinic? Maledetto me, maledetto Ok, vediamo un po' dove metterla No, però Scusami, questa è Fire Department Questo Non ce l'ho messo Questo è un piccolo problema Sapete che può essere un piccolo problema? Fammi vedere Se la metto qui È tutto coperto, ok Sono tutti più contenti Più o meno è tutto coperto Non è tutto coperto Eh, lo so che non è tutto coperto Però Vediamo un po' quello che si può fare Buy New Land Non ti preoccupare Ancora è troppo presto Per comprare un altro Un altro pezzo di terreno Dobbiamo comprarlo Ma Con calma Non mi mettere ansia Perché io prima Devo sbloccare queste O queste Oppure queste Sì, comunque Mi serve una Una buona rotonda Perché questa qui È troppo piccola Questa qui Non riesce Secondo me Non riuscirà a far carico Tanto metti velocità 3 Che cos'è? Non riuscirà a far carico Peraltro devo Unire qua Perché potrei fare Un'unione qua Particolare Che mi consenta Un'uscita E t'assommare Questa in un'entrata Che cos'è sto Sto coso blu Che mi lampeggia? Ah, perché c'è la polizia qua Ok, perfetto Potrei fare una cosa del genere Sapete che potrei farla? Non sarebbe malissimo Intanto New service Ok Unique building Non ti preoccupare State calmi Allora, intanto Guardiamo un po' Eh, la corrente Ne abbiamo Non è tantissima, eh La corrente potrebbe essere di più L'acqua no Però la corrente qui Ok, questo è a posto Ci vorrebbero altri soldini Per fare un po' di corrente C'è ancora richiesta di verde Guardate quanta richiesta di verde c'è Ve l'ho detto Quando voi fate Abbassate le tasse Ovviamente Ovviamente Poi arrivano subito Quando sentono profumo di tasse Che non si paga Subito gli avvoltoio Amm A mangiare Ok, perfetto Quindi sviluppiamo sul verde Sviluppiamo sul verde Dando un'occhiata però ai problemi Il problema principale È proprio la spazzatura Non ho ben capito perché Se si è fermata lì questa spazzatura Però se io la metto qui La potrei anche mettere Sì La metto lì e non se ne parla più C'è un po' qualcuno qui Che si incavelerà Però L'unico modo per raccogliere la spazzatura È questa Perché qui Ah ecco perché Perché questi qui escono Ma non riescono a entrare Qui dentro Dovrei fare Un Una stradina Anche qui Da collegare Fammi vedere Questo qui cos'è Aspetta un attimo Che lo rompiamo tutto Qua c'ho sti cosi Qua che cosa si Beh vengo a fare Ok Fammi vedere se questo è tutto Infatti Manca dell'argel giallo qui Perché ho Allargato dopo la strada Quindi Si è creato un attimo Un disordine Low happiness Non ti preoccupare Eh infatti Non ti preoccupare è un cavolo Però preoccupati invece Quindi ci sono I parchi Le stradine dove andare a correre E poi gli alberelli Ok vediamo se iniziamo a mettere Un po' di parchetti qua Che possono magari Migliorare un po' L'aria In questa zona Mettimela qui Ok così Poi ne metteremo Io le metterei anche uno qui Nella zona industriale Barra commerciale Se si può Not enough money Eh lo so Non c'ho soldi So sempre senza soldi In questo gioco Ma va bene così Non vi preoccupate È tutta una cosa ricercata Lo so Lo so che si può fare bene Dicevo E se io mettessi Crossroad and traffic Questa cosa qui Mi crea un po' di problemi Guarda Tutto qui è Il traffico che c'è Si può vedere Si che si può vedere Dico si può vedere Lo so che si può vedere Clicchiamo un attimo qui Fammi vedere Il traffico Il traffico è solo qui Guardate Ma si può risolvere Veramente con poco Con poco 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 Ve lo risolvo Eh Toglimelo Ok Con pochissimo Lo risolvo sto problema In pratica Devo fare Eh Una strada Una seconda strada Sì Una seconda strada Se io la faccio così Si incasina il mondo Perché Che cazzo Ci ho messo qua Fammi un cazzo Capire Drugstore Perché ci ho messo Qualcosa ce l'ho messo Eh Se no non si incasinerebbe Perché è troppo vicino a questo Però qui ci vorrebbe Un senso unico E uno per entrare E uno per uscire Però se faccio uno per entrare E uno per uscire Poi è un casino Allora Facciamo una cosa In via del tutto Provvisorissima Proprio Facciamo qui Una stradina Proprio provvisoria Che è A fine del mondo Ok così Provvisoria Proprio provvisoria Provisoria E ci siamo E ci siamo Togliamo questo pezzettino qua E io sto gioco qui Mi fa diventare matto Con le strade È una cosa incredibile Questo qui cos'è Ok Pezzo l'oro Ok Perfetto Ci sta Vediamo se riesco adesso A farla No Non me lo fa fare Perché non ho capito Perché Mi dice che è già costruito Lo so che è già costruito Ma io di qua A qua posso andare A meno che non ci sia Una costruzione qui Che mi crea del traffico No però Non mi sembra Che ci siano Delle costruzioni Bloccate Tipo quelle No Non è neanche questo Allora Vediamo un po' Se io faccio Una cosa diversa Qua non ho capito Che Ah è la fogna È la fogna C'ho problemi di fogna Ehm Sì C'ho problemi di fogna Perché non gli arriva la corrente Perché non gli arriva la corrente Aspettate un attimo Che ne metto una seconda Ok Poi colleghiamola Perché non gli arriva la corrente Fammi capì Ok Fammi capire Che non gli arriva la corrente A questi Corrente Guarda È tutto collegato Non gli arriva la corrente Oh La stiamo consumando Eh Perché non ne abbiamo più Ecco perché non arriva la corrente Non è che non arriva Perché siamo pazzi Non arriva perché non ce n'è più Qua non posso costruire Qua non mi conviene costruire Questo quanto mi costa Mi costa 19.000 Mi costa un po' tanto eh Sapete un po' che mi costa un po' tanto Devo un attimo alzare le tasse Questo è un gioco qui delle tasse Molto bello Rimettilo a 9 E gentilmente Facciamo entrare due soldini in più Perché Mi servono altri posti Ma mi servono anche soldi Perché se non metto Una cosa di corrente Cioè se non metto Un'altra centrale elettrica Ci faccio veramente poco Peraltro il traffico devo averlo eliminato Fammi un po' vedere Sì c'è un po' di traffico Ma perché non posso andare a modificare Questo pezzo di strada Però Si sta tranquilli Si sta diciamo Si potrebbe far meglio eh Si potrebbe mettere Questa qui E l'entrata Così li faccio Sì Buona idea Ottima idea Ottima idea Questa è l'entrata Loro di qua Fammi vedere Devo fare così Così No al contrario No al contrario Ok Aspettate un attimo Che la distruggo Metti in pausa Rompi questa Rompi questa Un attimo Che è un casino Di qua a qua Ok Così loro fanno il giro Dall'altra parte Perfetto Ci dovremmo essere Dovremmo avercela fatta Controlliamo sempre La spazzatura Questo c'è Questo c'è C'è Diciamo che c'è Non c'è però Noi facciamo finta che c'è 19.000 Ok Perfetto C'è ancora richiesta Di Di corrente Devo sistemare La richiesta di corrente Prima di poter costruire Qualcos'altro Perché qui Non gli arriva la corrente Poi mi si blocca E mi si incasina Tutto il mondo Se non sistemo Sta cosa qui Della corrente Non posso costruire Veramente nient'altro Quasi quasi Chiedo un piccolo prestito Però faccio mille Più mille Alla settimana Dovrei fare in fretta Dovrei fare Se stanno un attimo calmi Anche loro Gliela sistemo Sta storia Cioè si calmano Un attimo Qui La zona mi sembra coperta E che c'è una richiesta Eccessiva Di C'è una richiesta Eccessiva Ma perché Non funziona Quello lì Dov'è L'avevo messo A qualche parte Sì qua No funziona bene Funziona Sta operando normale Quindi qua È semplice Per lui arrivare Non c'è traffico E qui ne metteremo Un altro Ok Ce l'abbiamo quasi fatta Eh sti problemi qua Ti fanno veramente Diventare matto Ti fanno diventare matto Sono quei problemi Che non sai proprio Come risolvere Dove andare a prendere Un qualcosa 19.000 Ok Le mettiamo un altro Subito qua Dov'è quello vicino Ok Mettiamo due vicini Così Sono tutti contenti Non è vero Che sono contenti Però Avendo più carburante Avendo più potenza Elettrica Da esprimere Quindi da Da sprintare fuori Possiamo andare Far bene Possiamo fare Allora C'è una richiesta Di arancione Che io non me l'aspettavo Nemmeno Neanche questa Mi aspettavo Non mi aspetto niente Da questa città Però Sta andando bene Sta andando bene Non ci stiamo comportando Male male Qua Adesso io farò una cosa Allungherò anche Da questa parte E Piazzerò Un'altra Un'altra bella rotonda Fammi vedere La rotondina Quanto mi costa Non ho detto Che me l'aveva sbloccata No A 2004 Ok A 2004 Ci arriviamo subito Ci arriviamo Comunque le persone Stanno arrivando Quindi Non dovremmo Creare Non dovremmo avere Troppi problemi Qua c'è un po' di criminalità Perché questa criminalità Adesso qui Che potrebbe crearmi Qualche problema Fammi vedere Qual è questo Allora Qui non mi arriva Perché una sola Non basta Due Non c'ho i soldi Per metterli È un po' Problema Anche questo Ci sono delle cose Da fare Ok Questo qui è bruciato Arrivederci e grazie Brucia Brucia Bruci la città Ok Cantiamo Cantiamo Ci può stare Se io facessi un giro di qua Per collegare No No perché mi conviene Farla defluire il traffico Il traffico deve essere Bello scorrevole Vedete qua Loro se ne vanno Senza Senza problemi Scappano Vanno via Quindi Non capisco perché Andarmi a complicarla vita C'è tanta richiesta E c'è tanta richiesta Ma non c'è spazio Allora Se noi creiamo No però voglio aspettare Il 2004 io No però non ci arriva Il 2004 Mettiamone un altro va Se la metto qui Così Non dovrei creare Problemi Ok Dai che ci siamo Poi mi dai La stradina Buona Mi dai la stradina Buona Me la colleghi Fino in fondo A sto cavolo Me la colleghi La metti fin qua Fin dove puoi Fin tutti i soldi Che c'hai Fammi vedere Qua c'è l'acqua Non gli arriva l'acqua Nemmeno Eh questo è un problema Adesso perché Sono senza soldi In tutti i giochi Che vado a fare Finisco sempre senza soldi Ok Mettila Fin qua Quanto mi costa 4.000 Guarda Non c'ho neanche 4.000 euro Per fare la rete idrica Molto di fame Proprio su questo gioco Va bene Va bene Ce la possiamo fare Però Ce la possiamo fare Basta crederci Crederci Tenere duro Questa è una frase Non mia Tenere duro Una frase di Rocco sui freddi Non è che mi voglio Appropriare di niente Io Alzo le mani